Conferenza stampa di presentazione degli spazi e dei servizi di 012 Salerno, sede territoriale dell'incubatore certificato dal MISE 012 Factory in collaborazione con Fondazione Saccone. Quello di Fondazione Saccone 012 Factory sarà uno dei primi incubatori certificati della provincia sud di Salerno, in grado di offrire servizi a valore aggiunto a start-up e piccole e medie imprese innovative, con l'obiettivo finale di sostenere e accompagnare la crescita di giovani imprenditori. Sì, è stato uno sbocco naturale perché è un percorso iniziato un po' di tempo fa in seno al Comitato Scientifico della Fondazione Saccone e visto i player, visto l'amicizia che ci lega, è stato naturale poi sfociare in questo accordo, che ci fa molto piacere per il territorio. Noi in prima battuta, la tematica è quella dell'innovazione, quindi in prima battuta aiuteremo i soggetti che vogliono fare innovazione, avremo uno sportello di ascolto permanente, gratuito per chiunque voglia fare un'azienda innovativa, poi man mano li accompagneremo anche non solo verso le aziende più strutturate, ma anche verso la finanza agevolata, la finanza bancaria oppure i fondi di investimento. Quindi è un percorso di crescita per i giovani del territorio. Insieme alla Fondazione Saccone lavoreremo su sei servizi principali, che sono le business unit di 012 Factory. Noi abbiamo il primo servizio, che è quello rivolto alle persone che sono proprio all'inizio della propria carriera di imprenditori innovativi, che non sono necessariamente dei giovanissimi, che è 012 Academy, che verrà fatta insieme alla Fondazione Saccone, quindi si svilupperà in un percorso comune. L'altra è l'attività di cui si parla, insomma a tutti, che ci caratterizza un po' è quella di incubatore e acceleratore. Aprire la sede qui a Salerno insieme a Fondazione Saccone ci dà la possibilità di allargare gli spazi di incubazione per le start-up innovative. E l'altra business unit di 012 è il trasferimento tecnologico. Ci occupiamo di portare innovazione all'interno delle imprese tradizionali. Ed è bello farlo lavorando anche come incubatore perché in realtà lo portano le nostre start-up nelle imprese tradizionali. Quindi diamo l'opportunità alle imprese del territorio di innovare e aiutiamo le start-up a crescere perché incontrano i propri clienti naturali. Quindi non è la finanza sostenerle necessariamente ma è l'attività commerciale. E questo è un valore aggiunto laddove in Italia la finanza è abbastanza limitata. Poi c'è la parte di sviluppo delle imprese che è un accompagnamento un po' tradizionale ma serve sempre. Quindi consulenza commerciale, consulenza fiscale eccetera. E abbiamo due ambiti che si stanno sviluppando parecchio che è quella di studi e ricerca. Lavoriamo moltissimo sulle attività di sviluppo locale con università, enti locali, istituzioni in genere, camere di commercio per creare gli ecosistemi innovativi sul territorio. Lo facciamo spesso con progetti di cooperazione europea quindi finanziati da Bruxelles in partenariato con colleghi, enti, parchi tecnologici internazionali. Siamo rientrati ieri da Siviglia per chiedere un accordo col parco tecnologico dell'Andalusia. E l'ultima attività, l'ultimo servizio che facciamo di cui andiamo molto orgogliosi è i servizi digitali 4.0. Abbiamo costituito il primo consorzio, anche esso startup innovativa, di startup innovative che vendono servizi 4.0. Abbiamo preso 10 startup innovative che vendono servizi e prodotti delle tecnologie abilitanti 4.0 consorziandole sotto il marchio 012 Tech, consentiamo loro di essere competitivi con i grandi player del digitale e delle tecnologie 4.0 perché spesso queste startup che sono micro e piccole imprese erano poco competitive nei confronti dei big player sul mercato, spesso erano sub fornitori con una scarsa capacità avvertenziale, mettendoli insieme sono diventati un player grande e quindi diventano competitive le nostre piccole startup del territorio. Con oggi sicuramente aggiungiamo una pietra miliare alla storia della Fondazione Saccone suggellando questa partnership con 012 Factory e dando nascita a 012 Salerno, un percorso che ci ha visto condividere dal primo giorno, quindi la storia della Fondazione Saccone perché ci onoriamo di avere il SIO di 012 Factory nel Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione. Con oggi si apre un capitolo importante per il territorio, un capitolo che va a rafforzare decisamente quelli che sono gli obiettivi della Fondazione Saccone, quindi generare sviluppo per il territorio, valorizzare il capitale umano e generare a prescindere opportunità. 012 Salerno sarà quindi in sostanza un'antenna, un riferimento territoriale per le realtà economiche per essere supportate a tutto tondo nei processi di innovazione. Saranno dedicati grossi capitoli alla finanza agevolata e quella strutturata, saranno dedicati spazi di incubazione quindi per le giovani startup. In sostanza tutto questo si racchiude nel famoso e grandissimo ecosistema che è l'innovazione in generale, che su questo immagino siamo tutti d'accordo, l'innovazione sarà imprescindibile per la crescita e lo sviluppo territoriale.